Il gruppo Folk Enfisema con la partecipazione della famosa cantante Armandina. A tutti buona visione! Sì, oggi si inaugurano queste danze, tutti a muovere le panze, belli e brutti, giù in pista tutti. Orba, che piedone! Mi pare un salamone! Ammazza! Ma che ha indosso? Una pelliccia del montone! Dai, muove quel sederone, donna e sangiovese, dai, con la polca senza pretese, perché non vada a tante spese. E visto che non si arriva a fine mese, chi se ne frega si balla in tutto il paese. E se per sbaglio, quell'amora bruttarella, ti manda una baglio, non le mandare un raglio, la vita è troppo bella. Un, due, tre, Acchiappa la mano e via con me! Oggi festeggiamo il carrozzone, ci trovi pure il dottor Balanzone. E se in un angolo c'è Puccinella, fatti avanti e butta la scodella. E per non scordar nemmeno Arlecchino, sbrigati, dai, non fare il cretino. Tutti in pista, rompe la pentolaccia. Ah, che razza di figuraccia! Ah, che razza! Ah, che razza di figuraccio! Grazie.